E sono sola davanti alle mie gambe, sola, la treccia da una parte, sola, i vestiti malandati, noi due arrabbiati, guardo il frigo. Il duo acustico Ciucca partecipa ai Sanremo Music Award prossimamente. Sì, prossimamente saremo per il periodo del Festival di Sanremo Nazionale a Sanremo. Si svolgerà sul palco delle radio in piazza Mike Buongiorno, la piazza da cui si accede al teatro Ariston. Saremo sul palco delle radio perché? Perché quest'anno il Sanremo Music Award capitanato da Nicola Convertino ha istituito un nuovo premio ed è il premio radio 2016. Quindi tutte le più di 50 radio su territorio nazionale che seguiranno il Festival di Sanremo Nazionale seguiranno anche i ragazzi del Sanremo Music Award e ogni radio porterà un campione di questa compilation. C'è emozione? Tensione? Sì, tanta. Parecchia anche. Che cosa porterete lì come vostro repertorio? Dunque, il nostro filone prosegue sempre sullo scrivere a favore dei diritti umanitari. Quindi, mentre nella compilation del Sanremo Music Award speciale Expo abbiamo portato Il Volo degli Angeli, che è un brano per le mamme in dolce attesa a favore del diritto della maternità, a Sanremo Music Award porteremo il nostro brano Io meno te contro la violenza Peccato, non ne abbiamo parlato Quei silenzi malvaci Ti guardo, ti guardo Ma non vedo te Finito Grandi spalle E sei uscito Il 12 saremo alla Gran Gala di Monte Carlo Ci verranno premiati La nomination andrà a uno di questi campioni Stiamo parlando di Anastasia Stiamo parlando di Kili Minogue Di Al Jaro Di Skin Spagna Baglioni Paul Young Insomma, tanti altri Renato Zero Ce ne sono un'infinità Allora, in bocca al lupo Grazie Crepi, crepi Sola Da sola Resto Qui Di 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 Grazie